Buongiorno, come potete vedere il titolo della mia relazione è un po' diverso da quello in programma ed è l'educazione finanziaria, indicazioni dell'Ox e dell'UE, interventi in Italia, proposte alternative e la scaletta che seguirò è la seguente, partirò dalla definizione di educazione finanziaria proposta dall'Ox e poi sottoscritta dal G20, dall'UE e dal Parlamento italiano e le indicazioni operative date dall'Ox e per l'appunto sottoscritta dal G20 per le iniziative nazionali. Farò una breve carrellata di iniziative in Italia e poi presenterò le critiche che questa definizione e le conseguenti iniziative hanno sollevato e le proposte alternative con una diversa visione dell'educazione finanziaria o meglio educazione economica dovrebbe avere. Allora, vediamo innanzitutto cosa è l'Ox e cosa indicano altri acronimi che ricorreranno nel testo come IFE e PISA. L'Ox è l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico di cui sono paesi membri quelli che vedete indicati nella cartina, quindi vedete ci sono gli Stati Uniti, il Messico e il Canada, diversi paesi europei e l'Australia ed è stata istituita nel 1960 in sostituzione dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea che era stata creata nel 1948 per amministrare il cosiddetto piano Marshall. L'INFE, che è l'International Network on Financial Education, è una divisione dell'Ox e che si occupa per l'appunto dell'educazione finanziaria. PISA è il programma Program for International Student Assessment, cioè il programma di valutazione che periodicamente viene fatto in maggior parte dei paesi del mondo sulle conoscenze, sull'alfabetizzazione di materie scolastiche fondamentali che in Italia viene realizzato dall'Invalsi. Dal 2012 il PISA ha introdotto un questionario sulla educazione finanziaria. Partiamo dalla definizione di cui mi interessano in particolare le parole che ho evidenziato in rosso e che indicano il bersaglio utente, se volete, di questi interventi e che sono definiti investitori, consumatori di prodotti finanziari. L'obiettivo è quello di migliorare la loro comprensione dei prodotti finanziari, di tutto quello che si è connesso, in maniera da poterli aiutare a compiere delle scelte informate, scelte che riguardano l'acquisto di prodotti finanziari. L'Ox e ha cominciato a pubblicare documenti sulla educazione finanziaria a partire dal 2004, 4, io qua mi riferirò a quelli più recenti anche se diciamo il leitmotiv è un po' sempre lo stesso. Quello che innanzitutto mi preme sottolineare è per quale ragione vengono avanzate queste proposte così pressanti di realizzare una educazione finanziaria. Queste le vediamo esposte in un documento del Pisa in cui ne vengono messe in evidenza due. La prima è il passaggio di molte decisioni finanziarie, pensioni, previdenza sociale, assistenza sanitaria dagli stati agli individui. Questo punto che ricorre sostanzialmente in tutti i documenti sul tema merita una attenta riflessione perché dà per scontata una trasformazione quantomeno della maggior parte degli stati europei che dal secondo dopoguerra erano welfare state stati che assicuravano ai loro cittadini una moltitudine di servizi e diciamo in questi documenti si annuncia il loro tramonto come se fosse un evento ineluttabile e l'avvento di un diverso tipo di stato che è quello auspicato nell'ideologia neoliberistica che si limita ai servizi essenziali che sono quelli della sicurezza interna ed esterna mentre la salute, le pensioni, la previdenza, la scuola, tutto ciò che fa parte della nozione di welfare viene acquistata individualmente dai cittadini e offerta da delle aziende private. Per far questo è necessario ricorrere al mercato finanziario e al mercato delle assicurazioni per esempio per quanto riguarda la sanità, a quello di fondi pensioni ed eventualmente anche a vari modi di investimento per potersi cautelare nel caso di invalidità di incidenti o di spese impreviste. Ecco e l'altro punto molto importante che anche questo lo troviamo ricorrere in tutti i documenti dell'Ox e di altre organizzazioni internazionali ad essa affiliate è che diciamo un'educazione finanziaria assicurerebbe una maggiore stabilità finanziaria e economica mentre viceversa si dice la mancanza di financial literacy cioè la mancanza di una conoscenza di base della finanza è uno dei fattori che contribuiscono a decisioni finanziarie poco informate e tali decisioni a loro volta finiscono per avere tremende conseguenze negative. Quindi la causa delle crisi finanziarie, pensiamo all'ultima che ha travolto tutto il mondo, quella del 2007-2008 iniziata negli Stati Uniti, viene attribuita allo scarso discernimento dei singoli individui consumatori dovuta alla loro scarsa preparazione di materie finanziarie. Quindi viene attribuita una responsabilità personale del consumatore come se non esistessero le grandi aziende finanziarie, come se non esistessero organi sovranazionali come ad esempio il Fondo Monetario Internazionale o la Banca Mondiale. Per quanto riguarda poi come realizzare queste iniziative si invita a promuovere il coinvolgimento delle istituzioni finanziarie come componente della loro responsabilità sociale e buona governance, anche se nello stesso documento, che è un documento che è stato sottoscritto anche dal G20, si mette un po' anche le mani davanti dicendo che comunque il loro contributo deve essere monitorato e guidato per gestire possibili conflitti di interesse. Ecco altri partner possibili, sindacati, associazioni di consumatori, ONG, media, datori di lavoro. Quindi diciamo questo coinvolgimento poi è un coinvolgimento tutt'altro che periferico. Lo stesso documento ci dice che questa azione può prendere varie forme e qua sono evidenziati in rosso che vanno da livello più alto che quello della preparazione è uno sviluppo delle strategie nazionali fino alla realizzazione di iniziative di educazione finanziaria o la fornitura di materiali e programmi che quindi verranno poi utilizzati dalle scuole e verranno utilizzati da altre. Quindi una partecipazione assolutamente ad amplissimo raggio, dai livelli più direttivi a quelli più concreti. Questo ci solleva subito una domanda, cioè ci chiediamo le imprese finanziarie sono partner affidabili, cioè liberi da conflitti di interesse, di iniziative, di educazione finanziaria? E credo che non possiamo fare a meno di ricordare gli scandali che periodicamente o ci colpiscono personalmente noi o altre persone che conosciamo bruciando i loro risparmi o di cui sentiamo parlare nelle notizie di cronaca. Ma questo non è un problema solo italiano. Un'indagine condotta dalla Commissione europea sui siti di imprese finanziarie rivolte ai clienti e cui ne ha esaminati ben 562, ha trovato che solo il 30% ha superato la prova di verifica della conformità alle norme comunitarie sui consumatori. e i principali problemi riscontrati erano omissioni di informazioni fondamentali sui costi effettivi e sulla durata del contratto. Detto tutto questo, cioè qual è l'obiettivo, qual è il bersaglio e quali sono le ragioni e chi dovrebbe partecipare a tutti i livelli della gestione di questi interventi, vediamo quali dovrebbero essere i loro contenuti. Questi contenuti li troviamo sia nella definizione di financial literacy, alfabetizzazione finanziaria, che in quella di educazione finanziaria. La financial literacy, l'alfabetizzazione finanziaria, indica il livello di conoscenza che viene ritenuta fondamentale e l'educazione finanziaria sono gli interventi volti a promuoverla. Le due cose sono quindi interconnesse. Andiamo a vedere allora cosa viene esaminato nei questionari dedicati all'esame dell'alfabetizzazione finanziaria nelle persone adulte. I temi sono l'idea di interesse composto, un'idea di inflazione, la consapevolezza della necessità di diversificare il rischio, cioè avendo una certa somma a disposizione, mi conviene non investirla tutta in un unico prodotto finanziario, ma in molti. E la comprensione del rapporto rischio e rendimento, cioè se mi viene proposto un titolo dicendo che ha un rendimento molto alto, è anche possibile che questo rendimento nel breve termine cali di molto o anche che rischi di perdere parte di quello che ho investito. Ecco, questa è la conoscenza finanziaria che viene ritenuta fondamentale, costitutiva della alfabetizzazione, ciò che una persona adulta dovrebbe sapere. È interessante notare cosa non rientra in questa definizione, anche volendoci limitare a un'idea di educazione finanziaria che si limiti alla preparazione rivolta ai consumatori in vista dell'acquisto di prodotti finanziari. Ecco, non viene ritenuto importante sapere come e cosa producono le aziende che si finanziano con azioni e obbligazioni. In fondo, quando uno fa un investimento finanziario, sta finanziando un'impresa e potrebbe anche interrogarsi su cosa produce. Potrebbe essere personalmente poco propenso a finanziare l'industria bellica o a finanziarie industrialmente inquinanti o che sfruttano il lavoro minorile o che non assicurano i diritti elementari dei lavoratori. Ma questo non viene considerato parte della conoscenza finanziaria necessaria per poter consumare dei prodotti finanziari. Ecco, in virtù di, in conseguenza di questa visione di che cos'è la conoscenza finanziaria di base, poi i contenuti che vengono proposti nei documenti dell'Ocse sono i seguenti risparmio, denaro e transazioni, che include l'uso delle carte di debito e di credito, gestione e pianificazione finanziaria, cioè fare un bilancio in cui si tengono sempre presenti spese, ricavi, se cerchi, spese e guadagni diciamo, se cerchi di equilibrarli, come abbiamo visto il rapporto tra rischio e rendimento, e poi c'è una voce, contesto finanziario, che potrebbe lasciare, sperare che si aprano anche degli orizzonti più ampi. Ma se andiamo a vedere poi come vengono dettagliati questi punti, vediamo che riguardano i diritti e le responsabilità di venditori e di acquirenti, a chi chiede informazioni e consigli in materia finanziaria, e poi di nuovo questo discorso della responsabilità personale, cioè capire che gli individui possano scegliere materia di spesa e risparmio e che ogni azione può avere conseguenze per gli individui stessi e la società, che le proprie decisioni finanziarie personali si ripercuotono a livello individuale di comunità nazionale e globale, di nuovo come se gli stati e le aziende finanziarie non ci fossero. Ecco, questi temi che noi troviamo nei documenti dell'Ocse, li ritroviamo poi nei quelli dell'Unione Europea e li troviamo anche in documenti italiani. Ecco, qua mi pare interessante questo piccolo stralcio di una relazione fatta dall'allora direttore centrale di Banca Italia a un convegno del 2009 in cui tra i vantaggi sociali dell'educazione finanziaria nominava la contrazione della spesa pubblica in favore della crescita di servizi privati più personalizzati e la partecipazione più attiva degli spremiatori nei mercati finanziari. Ecco, a me viene da chiedermi se è compito della Banca d'Italia quella di agire per portare una contrazione della spesa pubblica e comunque se è scopo degli interventi di educazione finanziaria produrre questo effetto che invece dovrebbe essere la scelta di politica economica fatta dai governi che sono espressioni di maggioranze che dovrebbero rispecchiare le scelte elettorali dei cittadini. Le iniziative europee che qua vediamo e torniamo di nuovo a questa solfa che i singoli consumatori e le famiglie dovranno assumersi in misura crescente le responsabilità del loro futuro finanziario e ci soffermiamo invece sulle raccomandazioni che ai Paesi membri viene fatta dalla CEE attraverso il CESE che ha prodotto un documento che potete cliccandone il nome trovare in internet. Quello che qua ci interessa in modo particolare a parte la cautela che viene manifestata nei confronti del settore finanziario dicendo che in certa misura si è comportato in modo irresponsabile ma quello che ci interessa è la proposta di introdurre l'educazione finanziaria come materia obbligatoria nei curricoli scolastici affermando che deve essere attivamente promossa in tutte le fasi della vita in maniera continuativa e deve iniziare il prima possibile già a partire dalla scuola elementare e vista le finalità che finora i documenti ci hanno mostrato vengono attribuite all'educazione finanziaria a uno che vive in un Paese cattolico a me non può non venire in mente il detto di Sant'Ignazio di Loyola datene un bambino fino all'età di sette anni e poi tenetevi tutto il resto della vita perché diciamo c'è l'idea che a me viene in mente è che si voglia produrre un indottrinamento il prima possibile in Italia in passato qua abbiamo dei dati relativi al 2012-2014 raccolti dalle banche d'Italia i principali promotori di iniziative di educazione finanziaria sono stati il mondo finanziario, la scuola e le associazioni questi interventi sono andati da interventi di educazione cioè percorsi didattici veri e propri strutturati a interventi di sensibilizzazione questi rivolti più nei confronti degli adulti per informarli per esempio in occasione della pensione la possibilità di investimenti oppure informazioni sui fondi pensione quello che mi interessa in modo particolare è vedere la presenza del mondo finanziario in queste iniziative e quello che colpisce è che questa presenza sia molto più massiccia nelle iniziative rivolte agli studenti in cui il mondo finanziario è presente nel 90% dei casi rispetto a quelle rivolte ad adulti e gli enti che hanno realizzato il maggior numero di iniziative sono le banche seguite dai fondi pensione e stiamo parlando di iniziative per la scuola i temi trattati anche con gli studenti più giovani sono il tema del risparmio e il tema del debito che in realtà è il budget cioè come non debitarsi come assicurarsi di avere un equilibrio tra entrate e uscite questo martellamento sul risparmio che poi vedremo illustrato nei materiali che vengono distribuiti nelle scuole che ho potuto esaminare fa un po' sorridere se ci riflettiamo un attimo l'Italia è un paese che ha un elevatissimo debito pubblico ma anche un elevato risparmio privato e quindi non si capisce la ragione per cui si deve istillare nei bambini il senso del risparmio gli italiani risparmiano già e se hanno cominciato a farlo meno che in passato è perché le loro entrate sono diminuite non perché sono diventati dei dissipatori quindi la mia impressione è che in queste iniziative internazionali ci si basi sulle caratteristiche e anche le esigenze di alcuni degli stati e su queste proporre degli interventi che poi vengono proposti a tutto il mondo in questo caso il paese in cui c'è il problema dell'indebitamento privato sono gli Stati Uniti non è l'Italia questo indebitamento privato è stato all'origine della crisi finanziaria del 2007-2008 e anche su questo ci sarebbe da fare un lungo discorso perché anche quell'indebitamento non è attribuibile a dei cattivi costumi degli americani ma è stato indotto sia da politiche diciamo del governo americano sia da libertà d'azione che è stata data alle imprese finanziarie l'iniziativa che però è più importante e che avrà più conseguenze è stata l'istituzione avvenuta nel 2017 del Comitato per la programmazione e il coordinamento dell'educazione finanziaria allora dei punti anche qua che vorrei sottolineare è questa che tra le finalità di questo Comitato c'è quella di promuovere misure e interventi intesi a sviluppare non solo l'educazione finanziaria ma anche quella assicurativa e previdenziale quindi si vuole istillare ai bambini fin dalla scuola elementare l'idea che dovranno fornirsi di assicurazioni di fondo a pensione e così via l'idea di educazione finanziaria che è presente nella legge è poi la stessa che abbiamo visto all'inizio e che è stata proposta dall'Ocse cioè quella di migliorare la comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari in maniera da poterli usare più consapevolmente questo Comitato ha un sito che contiene un portale informativo per gli adulti e in cui sono pubblicizzate e descritte tutte le iniziative che svolge e io raccomando a tutti di entrarci e darci un'occhiata ogni tanto per avere un'idea in concreto di cosa poi si insegna bisognerebbe vedere i materiali che vengono prodotti, che vengono distribuiti questo non è più tanto facile perché in passato era possibile scaricare dei materiali dai siti e adesso non più per esempio questo libretto l'economia della famiglia Mille Sogni che è prodotto dalla Banca Nazionale del Lavoro io l'ho scaricato due anni e mezzo fa adesso se andate a quell'indirizzo non lo trovate più mentre è possibile ottenere dei kit che sono però rivolti alle scuole quindi chi non fa l'insegnante di quel livello scolastico e non intende attuare questo programma non riesce ad avere il materiale ma penso che quei pochi che adesso vedremo potranno darci un'idea di qual è un po' il linguaggio e qual è il tenore di questo materiale allora in questo opuscoletto stiamo guardando materiale per la scuola elementare vediamo come viene definito il lavoro e qua troviamo che il lavoro sono tutte le attività che le persone fanno per provvedere al proprio sostentamento e a quello delle loro famiglie con il lavoro si guadagna il denaro che viene poi scambiato con beni come il cibo, gli indumenti oggetti per la casa, la scuola insomma tutto ciò che fa parte delle nostre vite allora richiamo l'attenzione sul fatto che qua non si parla di produzione il lavoro è un modo per guadagnare i soldi e comprare delle cose da dove vengono quelle cose qua non viene detto vediamo una definizione di economia impiegare i propri risparmi per cercare di trarne un guadagno per migliorare le proprie condizioni è l'idea che sta alla base dell'economia di tutte le nostre società quindi l'economia non è diciamo il sistema di produzione e distribuzione dei beni ma è ciò che consente di guadagnare denaro attraverso il denaro e questo non solo viene detto ai bambini ma poi viene ribadito dicendo che è utile e anche divertente provare fin da giovanissimi a immaginare come potremmo impiegare il nostro denaro per farlo aumentare considerando possibilità e rischi quindi diciamo potrebbe essere l'idea del piccolo speculatore nella guida per gli insegnanti poi si calca ancora la mano su questo punto dicendo che ai bambini si può spiegare che investire significa affidare una banca i propri risparmi non solo perché li custodisca ma perché li faccia aumentare vediamo un altro opuscolo che questo è prodotto dall'istituto per la vigilanza delle assicurazioni l'IVAS qua troviamo introdotti senza nessuna spiegazione termini che chiaramente sono ignoti o se sono conosciuti sono però fraintesi i bambini della scuola elementare come percentuale proporzione azienda e società intendendo con questo società per azioni ecco il tema ricorrente qua è come far fruttare i nostri soldi e si spiega ai bambini che se mettiamo i nostri soldi nel salvadanaio da grande li troveremo uguali e sarebbe bene quindi pensare a qualcosa di redditizio cioè che faccia aumentare nel tempo il nostro gruzzoletto o almeno faccia diminuire il valore la crescita prodotta dalla gestione della somma dei risparmi si chiama rendimento e come questo rendimento possa essere elevato viene illustrato con questa figura che chiaramente è ingannevole che mostra un aumento esponenziale che credo nessun investimento abbia e non si spiega però come queste assicurazioni a cui si invita di affidare i propri risparmi fanno per provocare questo incremento ma si parla genericamente di gestione dei risparmi con questo suggerendo l'idea che tanto aveva danneggiato Pinocchio che ci sia qualcosa che magicamente fa aumentare i soldi infine la Banca d'Italia ha prodotto dei volumetti che raccontano la storia del denaro delle banche i sistemi di pagamento che quelli ancora li potete li potete scaricare ma il prodotto più nuovo è un opuscolo che è uscito nel novembre del 2019 di cui abbiamo solo l'anteprima come vi dicevo non è disponibile nella sua interezza ma possiamo comunque coglierne alcuni punti che ci aiutano a fare delle ipotesi su come sarà il seguito allora il punto di partenza è la paghetta dei bambini come parlando della paghetta dei bambini si arriva allo stipendio dei genitori che viene definito come lo stipendio che è quel denaro che una persona riceve di solito una volta al mese per il lavoro che ha svolto per qualcun altro per chi beh dipende per un'azienda una fabbrica un ente pubblico come una scuola un ospedale ecco io dubito fortemente vi dirò più avanti le ragioni per cui dubito che i bambini nella scuola elementare sappiano cos'è un'azienda abbiano un'idea di cosa si fa in fabbrica e abbiano la nozione di ente pubblico ma in ogni caso anche qua si parla di lavoro connesso allo stipendio e non a ciò che il lavoro fa i temi affrontati sono quelli che vedete nella pagina conclusiva che ha inventato le monete cos'è un reddito a cosa serve un conto corrente perché risparmiare è importante ecco va detto a merito in questo volumento che ha anche un piccolo inciso relativo alle tasse di cui gli altri non parlano allora se c'è questo martellamento sul fatto che i soldi devono aumentare bisogna risparmiare e dare i soldi a qualcuno che li gestisca per farli aumentare in quale contesto queste nozioni si inseriscono e quindi che effetto possono avere allora noi sappiamo che le linee guida i programmi del primo ciclo di istruzione non prevedono nessuna nozione economica nella scuola primaria e non prevedono neppure un minimo di istruzione sulle istituzioni politiche perché l'educazione e la cittadinanza si limita a regole stradali e a qualche riga sulla costituzione anche le raccomandazioni del consiglio del parlamento europeo non fanno cenno all'economia che viene nominata solo sotto la competenza spirito di iniziativa imprenditoriale e questo è un punto importante le ricerche sull'argomento indicano che i bambini tra i 6 e gli 11 anni sanno pochissimo sullo stato e le sue articolazioni e anche su banche aziende produzione e scambio di beni chi sia interessato a questo tema che qua non posso approfondire lo trova in un articolo che ho pubblicato e che è disponibile online di cui nella slide c'è l'indirizzo quindi in assenza di altre nozioni economiche e politiche innanzitutto quella di produzione e poi la nozione di beni pubblici di organizzazione dell'economia il ruolo della finanza nell'economia le tassi servizi pubblici l'idea che si deve fare attraverso i soldi rischia di lasciare una forte impronte nella mente dei bambini come potete vedere in questa foto che rappresenta una passeggiata nel deserto a cui anch'io personalmente ho partecipato questa impostazione dell'educazione finanziaria chiaramente non poteva rimanere esente da critiche e queste sono state sollevate da vari punti di vista ad esempio è un articolo molto interessante che consiglio a chiunque sia in grado di leggerlo in inglese di una giurista americana Lawrence Willis mette in discussione l'efficacia dell'educazione finanziaria sostiene che essa potrebbe addirittura essere controproducente dando un senso infondato di fiducia sulle proprie capacità e quindi favorendo delle scelte finanziarie un po' azzardate e soprattutto diciamo critica l'educazione finanziaria per essere usata almeno negli Stati Uniti e presenta dei casi illustrazioni di questo come alternativa a regolamentazioni dei prodotti finanziari e come alternativa afferma che è necessaria la regolamentazione dei prodotti finanziari e poi si potrebbero restituire con i soldi che si risparmiano perché queste iniziative di educazione finanziaria costano fornire servizi di consulenza finanziaria neutrale da parte di esperti non coinvolti nella vendita di prodotti finanziari Peter Davis che è uno studioso di educazione nell'ambito delle scienze sociali uno studioso britannico critica da un altro punto di vista dicendo che la presente definizione di alfabetizzazione finanziaria è universalmente troppo limitata la responsabilità dell'onestà finanziaria è posta sulle spalle degli individui e quella di banche e governi viene ignorata ciò non è né plausibile né accettabile per un'educazione che cerca di promuovere il comportamento democratico e solleva il sospetto che l'educazione finanziaria sia una cortina fumogena sollevata per spostare l'attenzione dal comportamento di banche e governi e propone come alternativa una financial literacy in the context of democracy c'è una potremmo dire un'educazione finanziaria nel contesto della democrazia che tratti anche i ruoli di banche e governi nella economia e un altro articolo propone un'educazione economica che faccia vedere da diversi punti di vista gli effetti delle scelte economiche punti di vista che possono essere assunti anche da un singolo individuo perché questi si trova a occupare contemporaneamente molteplici ruoli quello di consumatore di lavoratore di cittadino e di proprietario di qualcosa e fa l'esempio di un lavoratore che potrebbe trovarsi licenziato perché l'azienda dove lavora ha ridotto il personale perché ha deciso di delocalizzare e questa decisione è stata presa da un consiglio di amministrazione in cui sono presenti in maggioranza dei funzionari del fondo pensione in cui lui investe i suoi risparmi e che è proprietario dell'azienda in cui lavora un altro critico è esperto in educazione canadese che sostiene che l'educazione finanziaria cerca di costruire l'homo economicus che nel neoliberalismo viene assunto come un postulato in questo modo contribuisce a rendere questa teoria economica una profezia che si autoavvera considera il sistema economico come un dato naturale e non il prodotto di azioni in scelte umane ed ha per scontato che i servizi non possono più essere forniti dallo Stato servizi come istruzione salute previdenza scuola ma devono ricadere sui singoli anche qua l'alternativa è formare cittadini consapevoli anziché consumatori di prodotti finanziari e quindi diciamo la proposta a cui anche io mi associo è di passare dall'educazione finanziaria come definita dall'Ocse a una educazione economica e dall'educazione al consumo a una educazione alla cittadinanza a questo riguardo per la scuola media e superiore mi sembra ancora molto attuale una proposta dell'economista Stefano Zamagni fatta è un articolo pubblicato nel 1991 in un libro che ormai da tantissimo tempo fuori commercio e quindi penso che non si violi nessun diritto d'autore pubblicando nel sito di questo corso la copia che ho fornito in maniera che tutti la possano leggere Zamagni propone come obiettivo far comprendere agli studenti che le questioni politiche le riguardano personalmente incoraggiarli alla formulazione di giudizi e all'indagine sistematica dei fenomeni sociali favorire la loro maturazione socio-politica e aiutarli a comprendere che l'assetto politico non è un dato di natura e perciò è modificabile ma è opera dell'uomo come raggiungere questi obiettivi vediamo innanzitutto quali premesse dovrebbero essere poste a partire dalle scuole che precedono la scuola secondaria di secondo grado e allora per la scuola elementare io partirei dal lavoro inteso come produzione di beni e servizi per parlare poi di come funzionano i soldi tema tutt'altro che facile con i bambini soprattutto nei primi anni degli elementari che si trovano a gestire i centesimi e i valori interi e questo argomento può essere anche un utile modo di affrontare la rimetica poi la distinzione tra lavoro autonomo e dipendente e l'introduzione del concetto di beni pubblici e di comune regione forse si può anche cominciare a parlare di Stato che curano questi beni e offrono servizi pubblici attraverso i soldi delle tasse e solo alla fine io parlerei di banche e di strumenti di pagamento nella scuola secondaria di primo grado si può parlare di organizzazioni gerarchiche complesse cioè includenti vari livelli che si va nella organizzazione composta di vari livelli e parlare di profitto delle aziende delle banche la nozione di profitto è una nozione molto difficile da capire per i bambini ma viene data per scontata per esempio all'elementari si insegna in quarta la nozione di guadagno spesa ricavo del negoziante dando per scontato che i bambini sappiano che il negoziante vende a un prezzo che è superiore a quello di costo e questa nozione è tutt'altro che scontata per i bambini e tantomeno è quella che le banche possano prestare i soldi a un tasso superiore a quello che danno o che un industriale realizzi un profitto attraverso la differenza tra i costi e i ricavi e infine sempre nella scuola secondaria di primo grado si può cominciare a parlare di sindacati e di legge della domanda e dell'offerta su questi temi sono molto sbrigativa ci sarebbe molto da dire ma se cercate il mio articolo che vi ho indicato in precedenza adesso non la trovo più troverete i dettagli ok siamo qua arrivati alla fine scusate questa regressione ma non ho ancora imparato a fare l'editing dei video detto questo vediamo per la scuola secondaria di secondo grado qual è la proposta di Zamagni allora propone come contenuto di parlare di economia come scienza che si occupa del sistema economico vale a dire dell'insieme di soggetti che si organizzano per risolvere tra loro i problemi della produzione e dello scambio di beni atti a soddisfare i bisogni umani quindi molto diverso dalla definizione di economia che avevamo trovato nel libretto in cui veniva presentata come incentrata sul problema di far aumentare i propri risparmi presentare i diversi tipi di sistemi economici teniamo presente che l'articolo del 91 mercantile semplice capitalista e socialista e le peculiarità delle scienze sociali rispetto alla fisica e alle scienze naturali il taglio che propone è un taglio storico genetico cioè un taglio in cui le diverse teorie economiche vengono presentate in una prospettiva storica come risposta a problemi insorti in certi momenti storici e quindi con riferimenti alla storia economica ma mettendo in evidenza anche la diversità dei punti di vista anche nel momento presente infine un mio suggerimento personale è quello di leggere un libro che io ho trovato anche piacevolissimo intitolato Denaro come la finanza ha reso possibile la civiltà che inizia con i sumeri per arrivare ai giorni nostri e che è ricco di informazioni che potrebbero essere integrate nell'insegnamento della storia nella scuola secondaria ecco la mia relazione è finita e vi ringrazio per l'attenzione per l'attenzione Grazie a tutti.